ragazzi c'è a volte che i sogni si avverano e siamo tornati qua la riconoscete mia cugina della puglia si è fatta sei mesi di pistolari lì è tornata se parla pugliese stretto mettiamo i sottotitoli perché ha dimenticato proprio infatti faccio cazzo Rachele sembra un'altra persona bene Rachele ok vuoi salutare ciao allora cinque cose che una donna nota in un uomo esteticamente insomma esteticamente ok partiamo dalla prima cosa noti innanzitutto è la bellezza veramente oggettiva quella che ti fa perdere la testa una donna no assolutamente no mica quella oggettiva cioè per me un ragazzo può essere anche non oggettivamente statuario alla Brad Pitt però può avere un fascino nei modi di fare io ad esempio noto le mani mi piacciono tanto le mani io già cado io metto la mucchina lì purtroppo già mi spiace le mani nel senso minimo curate ok vedo le mani come anche vedo può essere uno sguardo anche il modo di camminare ma è soggettivo cioè secondo me non esistono cinque cose esteticamente universali che possano piacere una donna ti posso dire quello che piace a me facciamo una media tu hai tante amiche facciamo una media esatto diciamo tra le tue amiche tra quello che esce più spesso esteticamente dalle amiche però sì esteticamente la maggior parte dicono i denti il sorriso cioè devi avere i denti curati sia nella vista che nell'odore ok lo sguardo lo sguardo come ho detto prima per me è fondamentale lo sguardo perché se hai uno sguardo come dire apatico non mi trasmetti nulla e poi ho detto io vabbè guardo molto se un ragazzo è curato nelle mani ma non eccessivamente tipo quelli che si spinzattano le sopracciglia o si depilano dalla testa e piedi quello vabbè soggettivo a me non piace però non ti piace no mi piace l'uomo de panza peloso non esagerato però però appunto un minimo di cura che può essere nelle mani che può essere nel sorriso controllatevi sempre cosa avete tra i denti dopo aver mangiato prima di andare da un appuntamento a posto ti immagino avevi qualcosa a me dai insultate un po ok su tutte cose alla fine uno pensa cosa la bellezza no perché pensano da casa che il red pitt di turno il chris hemsworth di turno poi no faccia la differenza perché non fa la differenza come invece pensano non fa la differenza perché magari ti può piacere in un primo secondo mio è bellissimo quel ragazzo poi magari apre la bocca e ha una voce dal topolino è capitato un ragazzo agli esolo non dico il nome lui lo sa tanto oggettivamente un bel ragazzo ok muscoloso rasato occhi chiari con le ragazze a freddo in discoteca non durava tre minuti perché non riusciva ad articolare esatto se non sai coniugare i verbi subito un se io avrei ciao addio puoi essere a brett pitt ma tu non tu faresti un compromesso estetica e meno 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 argomenti un compromesso sicuramente ci deve essere minimo entrambe le cose primo esteticamente mi deve piacere a me questo è soggettivo appunto poi secondo molto più importante molto molto più importante il portamento detto tutto quello che è il fascino di una persona io non appoggio mai gomiti e tavola l'uomo rude comunque dipende può piacere come non può piacere ok quindi mi dicevi sguardo mani discorso altezza ecco perché vedo che molte ragazze sono tutte segate di testa anche su tinder adesso ti racconto questa cosa rachele apre una parentesi posso aprirla l'avrei per te comunque ok mi sono messo su tinder in questi giorni ho visto le testorie su instagram e praticamente perché stiamo sviluppando delle cose stiamo facendo dei test col mio profilo personale vedo un sacco di descrizioni di ragazze che scrivono alti minimo ma perché perché ci sono ragazzi vedono solo l'altezza cioè io ho visto proprio mi ricordo proprio di tinder c'era questo programma dove faceva vedere un uomo che doveva scegliere tra 30 donne o una donna tra 30 uomini facevano la fila prendeva solo quegli alti casualmente cioè questa è un assurda ma per te con per me no perché io mi metto in soggezione quelli troppo alti non per offenderti perché anche tu sei alto però non ti vedo in soggezione come anzi no no in soggezione no però solitamente sono più attratta da ragazzi non troppo alti che hanno un bel viso cioè io vedo più il viso che il fisico però è una cosa soggettiva però di solito hai amiche che la mia coinquilina fissata ma chi è la simona no è un'altra si chiama martina ok ma simona ho detto giusto il nome si si te la ricordi ma perché ma perché loro cioè qual è la fissa cioè fammi capire un attimo non più alti di un metro ottanta almeno un metro ottanta cioè deve fare il casting per un film tutto perché lei è già lì un metro ottanta ok ok ci siamo è un discorso troppo è un discorso suo personale di altezza cioè che lei ha e anche come lo vorrebbe esatto sì cioè voglio dire già le piacciono quelli alti più lei è molto alta ok pretende un'altezza da cestista quindi ok e per quanto concerne il discorso dei capelli perché molti si segnalano io mi sto facendo crescere i capelli fanno schifo lo so che fanno schifo tu non ci vediamo da un sacco di tempo tu mi ricordi no e sei diverso devo sto facendo un po crescere volevo il lockdown mi ha fatto questo rap tus e così perdonami ma ce li avevi già a lunghi comunque non così ma non così non mi ha provato così lunghi comunque capelli non capelli pelato perché si seggano su sto fatto qua molte volte mi scrivono su un direct ma io sono pelato non è che hai cioè tre occhi voglio dire sì ma è vero soprattutto quando un ragazzo arriva a una certa età giovane ho amici miei che da già 19 anni ho cominciato a perdere capelli essere stempiati hanno perso completamente la loro autostima tanto da andare in turchia a farsi il trapianto di capelli super comunque solito e però se effettivamente dipende ma conta esteticamente secondo me un po si un po un po si dipende poi bisogna vedere come per te conta ma conta ma conta se non li ha no a me piace l'uomo calvo e la stempiatura che non mi dice se sei qua pelato e qua c'hai i capelli lunghi no è chiaro cioè se sei completamente a meno che non stai girando un film tipo ultimo mio cane esatto però io però io mio padre che è calvo per me è più bello del mondo quella foto che hai pubblicato l'adoro ma quale quella su pippagram cioè quella con il col babbo tempo fa l'avevo vista mi fa una tenerezza quella foto che ogni tanto sì no ma veramente mi è apparsa mi è rimasta in presa quando la vedo io dico perché non ti scrivo sul direct sono contro sì sei contrario alle relazioni interpersonali ok ragazzi vuoi aggiungere qualcosa sul discorso estetica hai avuto ragazzi molto belli o molto brutti o molto sì di tutti i tipi nel senso appunto sia all'inizio quando ero adolescente sui 17 anni io vedevo solo la bellezza ero veramente molto superficiale a quell'età veramente potevi anche essere intelligente quanto un bradipo però l'importante che era bello invece adesso assolutamente no il mio ultimo ragazzo per denigrarlo cioè non era proprio Brad Pitt però super intelligente super simpatico hai avuto ragazzi magari anche proprio lui ragazzi lei mi guarda i cappelli perché penso ragazzi non so come pettinarmi le abbiate pazienza che cazzo devo dire hai avuto ragazzi che venivano cioè tu li vedevi belli retto mica li vedevano merde sì mamma mia cioè sempre praticamente sempre con te bello vestito così mica fa schifo è una merda esatto e questo mi fa capire che abbiamo tutti i gusti diversi ecco perché è un discorso difficile ti ho fatto sbagliamento perché a 18 anni mi sono infatuato di una barista di una ragazza che per me era bellissima della repubblica cieca e lei aveva già 30 anni e per me era stupenda e tutti gli amici dicono guarda che una merda fa schifo per me era bellissima questo volevo capire se era anche per te stato così sempre rimaniamo ancora un po' no no dai chiudiamo ragazzi da me rachele è tutto